Non funzionano senza il personale e allora noi oggi siamo qui per dire che questo l'ha fatto, che le assunzioni devono essere fatte subito, ora, che non possa pensare di prendere l'infermiere e il personale precario, come qua, a partita IVA, che oggi giustamente non ci sta a farsi sfruttare perché è cambiata l'aria, Ministro Speranza. Noi siamo gli infermieri del SASN, Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti. Lavoriamo da 30 anni con una convenzione per il Ministero della Salute, non siamo stati mai stabilizzati, lavoriamo senza tutele sociali, abbiamo cresciuto i figli senza poter avere le tutele che hanno tutte le madri lavoratrici. Sono infermiera dall'87, ma lavoro per il SASN dal 92. Un contratto a convenzione che è scaduto nel 2012, che è un contratto che non prevede nessuna tutela. Senti, ma che motivazioni va a dare il Ministero? No, non ci rispondono proprio, non rispondono proprio. Che cazzata che non ha nessuna disponibilità a diventare carne da macello.